Fino a ieri, George era 2 metri e 13 per 226 chili. Stai bene, amico mio. Sei spaventato. È tutto a posto. Ora è 274 per 450 chili. Oh no. Che succede al mio amico? Sai cos'è la manipolazione genetica? Lui è l'unico. Oh, non sapeva del lupo di 9 metri. Andiamo a salvare il mondo. Mi tornerà in mente. Ce la faccio. È stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. Tre stelle Michelin è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo. Maggiorana, pepe nero, cipolla. Porca puttana, li hai azzeccati tutti. Alla patente? È il foglio roca. Sono ragazzi con sindrome di Asperger. Ditemi gli ingredienti che ho usato. Il pollo. È una zuppa di pesce. A me il pesce fa cagare. Traffica in aumento. Una macchina sola, con calma. Traffica in aumento, Arturo. Ah, Guido, e basta. Ecco quanto basta. Basta così. Già è il finale.